Non potrei vivere senza muovere un minimo, vedere paesi, popoli, essenziali per nutrirsi di cose nuove. Non puoi fare questo mestiere se rimani in casa, se non hai un minimo di fantasia e di immaginazione nella vita. Mensemble di un personi e croneremi in casa. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti